Buongiorno a tutti, oggi parleremo di reflusso castro esofageo, seguiteci tra qualche istante. Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento delle 14 sulla pagina di Facebook di Capire per Prevenire, perché la miglior medicina, come diciamo sempre, è la prevenzione. Oggi parleremo di un argomento estremamente importante, parleremo come vi ha detto poco fa Francesca, che innanzitutto salutiamo, ben ritrovata e bentornata. Grazie prof. Ci sei mancata e mi aiuterà in questa diretta, per cui se avete bisogno di fare delle domande, tramite questo cellulare noi cercheremo di leggere le vostre domande e cercherò di rispondere possibilmente se le domande devono essere inerenti al tema, come vi ricordo che il tema è il reflusso castro esofageo. Un'altra preghiera, un altro consiglio è quello di condividere le nostre dirette anche in questo momento, proprio per dare l'opportunità anche ai vostri amici di poter interagire con noi e di poterci fare le domande, perché comunque la prevenzione, la salute è un bene un po' di tutti, è un bene un po' di tutti. Dunque il reflusso gastro esofageo, se avete bisogno di fare domande fatele, è una patologia dell'uomo e della donna diciamo in ugual misura, in realtà c'è ancora una leggera predilezione per il sesso maschile, il rapporto è di circa 2 a 1, cioè ogni due uomini che ammalano di questa malattia una donna equipara questa diciamo questa statistica, in realtà questa diversità tra uomo e donna si sta affievolendo e sta diventando una patologia, una malattia diciamo comune di entrambi i sessi. Quello che devo dire subito è che il reflusso gastro esofageo è un fatto fisiologico, cioè è un fatto che è comune, succede a tutti, ognuno di noi, compreso il sottoscritto, compreso Angelo, compresa Francesca, ha un po' di reflusso gastro esofageo, è un fatto diciamo fisiologico. Quando questo reflusso comincia ad essere importante, comincia ad essere costante di quantità rilevanti di materiale gastrico in esofago, allora si comincerà a parlare di malattia da reflusso gastro esofageo, allora entriamo nell'ambito della patologia e non più della fisiologia. Che cos'è che succede in sintesi? Per cercare di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, nello stomaco Vige c'è un ambiente particolarmente acido perché è importante per l'inizio della digestione di quello che noi mangiamo. L'esofago e lo stomaco sono molto attaccati, cioè l'uno segue all'altro, cioè lo stomaco segue all'esofago. L'esofago non è abituato, le pareti interne dell'esofago non sono abituate all'ambiente acido, mentre lo stomaco produce acido. Se un parte del materiale, parte di quello che noi mangiamo, rifluisce, cioè risale verso l'esofago vuol dire che risale sia quello che noi abbiamo ingerito, ma anche l'acido che lo stomaco sta producendo. Questo reflusso crea una sintomatologia. Che cosa avverte? Vedete quali sono i sintomi, Francesca, del reflusso gastro esofageo? Quando diventa malattia, cioè quando cominciamo ad entrare in quell'ambito in cui è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia. Ci sono dei sintomi che sono gastrointestinali, che sono il bruciore retrosternale, il rigurgito, la disfagia e le eruttazioni. Questi fanno parte dei disturbi gastrointestinali, che si distinguono poi da quelli extraintestinali di cui parleremo a breve. Esatto. Se ci vuoi un attimo... Il bruciore retrosternale è la cosa più importante, è quel dolore retrosternale che insorge di solito in coincidenza con il pasto, dopo il pasto. Qui dobbiamo fare subito, dare un'attenzione, cioè non bisogna sottovalutare un dolore retrosternale o al contrario non bisogna dare al dolore retrosternale subito un'importanza che un po' ci deriva da quella che è la comunicazione di massa. Per cui quando si ha un dolore retrosternale tutti pensiamo, brava, pensiamo subito immediatamente all'infarto. Ecco, questo nella stragrande maggioranza dei casi non lo è, però, però, e qui c'è un però, bisogna dare l'importanza giusta. Qual è il limite? Esatto. Per cui andare in ospedale e capire quando... Se al dolore retrosternale c'è un dolore al braccio, di solito in sinistro, c'è una sudorazione, c'è una spossatezza, c'è una difficoltà a fare anche pochi passi, allora non è quasi sicuramente un reflusso gastroesofageo ed è bisogna assolutamente andare in questi casi al pronto soccorso per farsi fare un elettrocardiogramma perché potrebbe essere quel raro caso, ma che purtroppo esiste, in cui vi è invece una sofferenza del miocardio, cioè un infarto del miocardio. Le altri disturbi che Francesca ha elencato sono un po' quelli che si avvertono e che sono legati proprio a questo materiale che refluisce in esofago. Uno dei più importanti è la disfagia, cioè questa difficoltà proprio a deglutire. Perché? Perché il disturbo non va a interessare solo la parte più lontana dell'esofago, ma risale in alto fino alla gola. Francesca, se tu vedi la parte invece extraintestinale, ci sono altri sintomi sempre molto frequenti come la tosse, la racedine, il dolore toracico, l'asma, la ringite e faringite. Questo perché? Perché il refluito può dar fastidio anche alla faringe, alla linge e questo può comportare anche una disfonia, cioè difficoltà anche fonatorie. Cioè il paziente comincia ad avere un abbassamento della voce, allora si pensa oddio chissà che cosa sarà successo, sarà un polipo sulla corda vocale, sarà qualcosa. In realtà poi e proprio magari molte volte si scopre di avere un reflusso gastroesofageo quando si hanno dei sintomi a livello per esempio della voce o ancora di più una tosse estizzosa che non guarisce, che ci perseguita quotidianamente, molte volte non è dovuto a un fatto diciamo polmonare, comunque respiratorio, è un fatto legato a un reflusso gastroesofageo. Vedete come molti sintomi, molti disturbi che noi avvertiamo potrebbero essere riferiti ad un reflusso gastroesofageo. C'è una nostra telespettatrice che ci fa una domanda, la Monica Benescu che salutiamo, lei ci dice che l'elicobacter pylori non va via nemmeno con le bombe di diciamo di antibiotici, quindi che si può fare? L'elicobacter pylori è un batterio importante, è un batterio importante che è stato scoperto ormai da tanti anni che predispone a problemi gastrici e duodenali importanti per cui si fanno delle terapie antibiotiche mirate, ma non è l'argomento di oggi. Magari lo tratteremo proprio in una diretta, proprio sull'elicobacter, lo tratteremo in una prossima diretta, tratteremo proprio il problema gastrico. Quali sono i fattori di rischio, cioè a che cosa bisogna cercare di non fare per evitare che insorga una malattia, torno a ripetere, da reflusso gastroesofageo? Il primo tra tutti è l'obesità, del quale tratterai la settimana prossima, martedì diciamo lautamente. Poi abbiamo il fumo di sigaretta, una dieta ricca di grassi e proteine animali e povera di frutta e verdura. Poi abbiamo abuso di caffè, cioccolata, menta, bevande gasate, alcol, spezie e tutti i cibi piccanti. Inoltre abbiamo erna iatale, una certa familiarità, quindi ereditarietà con il reflusso gastroesofageo, errate abitudini, quindi ad esempio di stendersi a letto subito dopo aver mangiato, stress, gravidanza, aburso di farmaci, soprattutto i fans e i cortisonici ed infine appunto questa infezione di helicobacter di cui abbiamo appena discusso. I fattori di rischio come vedete sono tantissimi, in realtà quelli più importanti sono sicuramente quelli legati all'obesità, al fumo di sigaretta ed entreremo nel merito adesso molto più attentamente sulle abitudini proprio a tavola. Che cos'è che si sbaglia quando si ha questa predisposizione ad avere il reflusso gastroesofageo? Dal punto di vista delle abitudini voluttuarie, cioè delle abitudini proprio quelle quotidiane, la cosa più sbagliata che si può fare avendo un reflusso gastroesofageo è andare a coricarsi, a mettersi a letto, a sdraiarsi subito dopo aver mangiato. Questa è l'abitudine più sbagliata che si possa avere. Vedete è un rafforzativo più sbagliata perché? Perché oltre ad avere un difetto diciamo anatomico di questo sfintere che non permette allo stomaco, al contenuto gastrico di risalire in esofago e questo sfintere è un po' incontinente, oltre ad avere questo difetto anatomico se ci aggiungiamo il fatto di coricarsi, di sdraiarsi è chiaro che facilitiamo ancora di più il reflusso dal punto di vista alimentare. Dal punto di vista alimentare ci sono degli alimenti ben precisi che sono i più fastidiosi e li elenchiamo in modo molto semplice, per esempio il pomodoro è un alimento che dà fastidio, aumenta l'acidità, le bibite gasate, l'acqua molto gasata, la coca cola, sono delle bevande che non fanno assolutamente bene a chi ha un reflusso e ci sono due alimenti che sono veramente deleteri, il caffè e la cioccolata. La coppetta di cioccolata Francesca, dopo cena, bella la coppetta di cioccolata. Purtroppo è la peggiore abitudine per chi ha reflusso, quel paziente, quella persona che soffre di reflusso, dopo la coppetta di cioccolata come andrà a letto purtroppo passerà una nottata in cui, no, le pene dell'inferno no, però avrà bruciori, avrà fastidi e noterà che per stare un pochino meglio si deve alzare con il tronco, dovrà dormire con 3-4 cuscini. Quando questo dovesse essere necessario è assolutamente opportuno Francesca rivolgersi al proprio medico di base. Tra l'altro la diagnosi che può fare il medico qual è, come si può... Esatto, la diagnosi della malattia di reflusso è essenzialmente una diagnosi anamnestica. Che cosa significa anamnestica? È una diagnosi che si basa sull'intervista che il medico fa al proprio paziente il quale lamenta questi disturbi che abbiamo visto. Già il medico, esperto, comunque preparato comincia ad orientarsi nella diagnosi e se ha il sospetto che si tratti di un reflusso gastroesofageo prescriverà i farmaci che oggi sono veramente utilissimi per questo tipo di malattia. Pensate che una volta era una patologia che aveva delle strategie chirurgiche. Oggi il chirurgo, il sottoscritto, è veramente l'ultima spiaggia, è veramente l'ultima ad essere interpellato perché nel 90% dei casi, credetemi, con la sola terapia medica, con il cambiamento delle abitudini quotidiane si controlla questa malattia definitivamente. Per cui il medico di base vi farà delle domande alle quali risponderete e lui già si orienta. Quando con la terapia medica lui vedesse che non ha un beneficio completo ma ci sono, rimangono ancora dei fastidi, consiglierà delle indagini strumentali di secondo livello, si dice, perché sono indagini morfologiche che ci danno l'opportunità di vedere direttamente quanto è questo difetto di questo sfintere che impedisce il reflusso tra stomaco ed esofago. L'esame più importante è l'esofago gastroduodenoscopia, che è un esame che oggi si fa con una sonda talmente piccola, con un pochino di spray anestetico, che è quasi tollerata perfettamente dal malato. Non è più come una volta, oddio devo fare la gastroscopia, è traumatica, ecco non è più così. È un esame che si fa quotidianamente, in cinque minuti si fa un esofago gastroduodenoscopia. Quando fosse necessario avere una valutazione ancora più approfondita della acidità dell'esofago e soprattutto della capacità dell'esofago e della contrattività dell'esofago, si passerà ad una manometria e a una pH-metria che adesso andremo a vedere con un video che è stato preparato e che vi farà vedere in un minuto come si fa una pH-metria e una manometria. Un minuto soltanto di video che è comunque utile da vedere. La manometria esofagea e la pH-metria sono due esami diagnostici grazie ai quali è possibile studiare rispettivamente la pressione e il pH all'interno dell'esofago. Sono quindi degli esami che permettono al medico di valutare se l'esofago funzioni correttamente. Queste procedure possono essere utilizzate per studiare e diagnosticare patologie come l'ernia ietale, il bruciore retrosternale ovvero la pirosi, la carasia, il reflusso gastroesofageo o disturbi della modulità esofagea. Prima di essere sottoposti ad uno di questi due esami, è importante essere a digiuno da solidi e liquidi da almeno 4-8 ore e sospendere farmaci che possono interferire con la modulità e la produzione acida esofagea. Prima della procedura, il medico provvede a somministrare un anestetico locale all'interno del caporale per contrastare il riflesso della tosse e del vomito. Una volta che il sedativo fa effetto, viene inserito un piccolo catetere nell'esofago attraverso la bocca o il naso. Durante la manometria, una volta che il catetere è in posizione, viene chiesto al paziente di stendersi sul lettino sul lato sinistro e ingoiare piccoli solsi d'acqua. Durante la deglutizione, un computer connesso al catetere registra le variazioni all'interno dell'esofago. Terminata la registrazione, il catetere viene lentamente sfilato. Abbiamo praticamente già finito il nostro termine, la nostra diretta, il nostro tempo. Voglio ringraziare i colleghi dell'H3 Sargical Team, che è un piccolo gruppo di giovani specializzanti che realizzano questi video che sono veramente molto utili per tranquillizzare, per far vedere la leggente, quello che si fa in questo caso. Avete visto come la manometria e la pHmetria siano esami che si fanno in ambulatorio senza nessun problema. Fatta la diagnosi, la terapia è una terapia basata soprattutto su antiacidi, su procinetici, cioè su farmaci che aumentano la velocità di eliminazione del contenuto gastrico, per cui la terapia, come vi ho detto all'inizio, dà degli meravigliosi immediati benefici. Purtroppo, rispondo anche a Federica che chiedeva se è possibile una remissione completa del reflusso. Federica, la remissione completa si ha fin tanto che si segue in modo corretto le indicazioni terapeutiche mediche che il medico ha dato, ma soprattutto si cambiano quelle abitudini di vita che hanno comportato un accentuarsi di questo fastidio. Detto questo, torniamo pure da noi, abbiamo terminato. Se avete bisogno di fare ancora domande, potete continuare a scrivere, io vi risponderò, vi risponderò appena possibile alle vostre domande, c'è sia un numero Whatsapp che potete utilizzare, lo potete leggere sul post, così come potete scrivere direttamente qui, potete andare sulla pagina web di www.capireperprevenire.com dove anche lì avete la possibilità sia di rivedere tutti i video, ma soprattutto di continuare a fare le domande. Ringrazio Francesca per essere stata qui con noi. La prossima settimana parleremo nuovamente di un argomento interessantissimo che è stato più volte richiesto. Parleremo della obesità patologica, per cui di quella che è la chirurgia che è legata a questo tipo di disfunzione. Vedremo come la chirurgia bariatrica entra e si inserisce all'interno di un'equipe di medici importanti per la cura di questa patologia, che è l'obesità patologica. Per cui non mancate martedì 30, martedì prossimo avremo ospite il professor, è un professore che lavora qui all'azienda Poliglini con Berto I e il professor Casella, che è un chirurgo che si occupa soprattutto, ma anche direi, di chirurgia bariatrica. Appuntamento a martedì prossimo. Arrivederci e grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti.